Oggi siamo in sala operatoria per eseguire un lifting endoscopico. Il lifting endoscopico è una procedura di ringiovenimento del volto che si basa sul riposizionamento profondo dei tessuti attraverso l'utilizzo della tecnica endoscopica. La tecnica endoscopica che da me è stata standardizzata e pubblicata su riviste scientifiche internazionali è la tecnica MIVEL, cioè Minimal Invasive Vertical Endoscopic Lifting. Questa tecnica si basa appunto sull'utilizzo della tecnica endoscopica, quindi senza lunghe cicatrici, senza tagliare la pelle, senza tirare la pelle, ma attraverso delle piccole incisioni nel cuoio capelluto si introduce questa telecamera di 4 mm e dei piccoli strumenti con i quali si va a riposizionare i tessuti profondi. In questa filosofia del ringiovenimento del volto non c'è il tirare la pelle, perché si è visto che è importante non tirare la pelle, ma soprattutto riposizionare i tessuti profondi. Naturalmente per ottenere il miglior risultato bisogna poi agire sul ripristino dei volumi e la rigenerazione cutanea attraverso un'altra tecnica sempre da me standardizzata e pubblicata su riviste scientifiche che è il Cephi e il Micro Cephi, cioè il Superficial In Asset Fluid Fat Injection. Questo si basa sull'utilizzo delle cellule staminali del tessuto adiposo, ma ne parleremo in un prossimo video.